La superluna arriva puntuale all'appuntamento, pronta ad apparire nel cielo così grande e brillante come non la si vedeva da ben 68 anni. Il fenomeno si è briccato nella notte tra lunedì e martedì. L'ultima volta che la luna piena era stata così vicina alla Terra è stato nel lontano 1948 e tornerà a essere così imponente tra 18 anni, nel 2034. La superluna è un fenomeno astronomico che si verifica perché l'obbita che la luna percorre attorno alla Terra ha la forma di un'ellisse. I punti nei quali raggiunge la massima vicinanza sono più vicini alla Terra di ben 50.000 km rispetto ai punti più distanti. A renderla così spettacolare è il fatto che sarà piena appena due ore dopo aver superato il perigeo, che la fate sembrare più grande del 14% e più luminosa del 30% rispetto ad ogni altra luna piena dal gennaio 1948 ad oggi. L'evento è stato possibile vederlo in gran parte del centro Italia, ma non al sud a causa delle violenti piogge. L'evento è stato possibile vederlo in gran parte del centro Italia, ma non al sud a causa della Terra, ma non al sud a causa della Terra, ma non al sud a causa della Terra, ma non al sud a causa della Terra. L'evento è stato possibile vederlo in gran parte del centro Italia, ma non al sud a causa della Terra, ma non al sud a causa della Terra, ma non al sud a causa della Terra.